salve a tutti ragazzi questo è un tutorial su come risolvere uno skew innanzitutto volevo mostrarvi la mia collezione di skew la mia famiglia di skew questo è lo skew tradizionale poi abbiamo già mostrato nel video precedente il dino cube che è comunque dei movimenti tipo skew però sono dino abbiamo l'hollow dino skew che però non muove seguendo la logica dei dino cube ma muove essenzialmente la parte di su e la parte di sotto la facciata superiore quella inferiore poi abbiamo lo skew come il precedente solo che ha gli sticker in fibra di carbonio abbiamo la versione magnetica dello skew veramente molto buono questo infatti mi sa che con questo farò vedere la guida poi ho un hollow skew però che ha gli stessissimi movimenti diciamo di uno skew normale quindi non è niente di che ho il twisted skew ossia quello twistato è lo stesso solo che è twistato nella parte centrale questo qui è carino nel momento in cui lo vado a mischiare ti fa perdere un po' l'orientamento poi abbiamo il dino skew questo funge essenzialmente da skew e da dino in queste facce è veramente molto complicato questo però è molto carino poi abbiamo il rex cube il quale ha dei movimenti che può essere o di dino o di skew ma penso più di dino questo però comunque questo invece è il master skew il quale non muove vedi la parte piccolina dell'angolo ma ruota la faccia così come nello skew quindi ha gli stessi identici movimenti ok solo che questo qui ha in pratica uno due tre strati mentre nello skew normale abbiamo solo uno e due strati quindi questo è come se fosse un 2x2 mentre questo è come se fosse un 3x3 poi infine abbiamo il multi skew molto carino molto bello in quanto nel momento in cui vado a fare la mossa skew vado a mischiare come vedete come vedete all'interno anche questo centro piccolino che vedete è tipo il cubo del cubo no? e siamo tornati alla fase di partenza questo qui combina essenzialmente diciamo le mosse di questo così come le mosse di questo come del master skew e del rex skew vabbè questa comunque è una guida dedicata allo skew e vediamo un po' come risolverlo come detto prendo in considerazione la versione magnetica perchè è molto più fluida nei movimenti e mi piace particolarmente le mosse da ricordare in questo tutorial diciamo sono semplici tipo vabbè tipo down down up up la stessa mossa che abbiamo visto nella dyno q la quale mossa come da quanto vedete mi lascia invariata la parte inferiore ma tipo la parte superiore nel momento in cui la devo risolvere mi sarà molto utile questo dettaglio tipo adesso abbiamo due blu da questo lato e per risolverlo devo fare di nuovo down down up up ed è risolto gli angoli bene adesso partiamo con mischiare il nostro skew come vedete è veramente fluido questo cubo è della x man cube questa è la marca per chi volesse acquistarlo io l'ho acquistato da aliexpress una cifra tipo di 10 euro una cosa del genere veramente economico bene allora per prima cosa ci dobbiamo comporre tutti e quattro gli angoli allora scegliamo come punto di inizio un colore io scelgo sempre l'arancio indipendentemente dai centri ok vedete in questo caso scelgo l'angolo arancio però col giallo che non c'entra niente allora dobbiamo conseguire diciamo tutti gli angoli in base al colore che hanno nelle facce inferiori tipo quest'angolo arancio ha qui il blu e qui il bianco proseguendo in senso antiorario dovremo mettere l'angolo arancio che presenta anche il blu sulla faccia inferiore allora andiamolo a trovare e lo troviamo qui allora come posso fare il movimento di skew mi muove in pratica quattro angoli e tre centri allora nel momento in cui lo vado a salire vedo che l'angolo è al posto scorretto nel senso che è orientato male come faccio ad orientare bene quest'angolo? basta riabbassarlo girare la faccia sua in modo tale che lui si giri e portarlo su è una mossa molto semplice secondo passaggio è quello di mettere l'altro angolo sia quello che ha l'arancio e il giallo l'arancio e giallo lo troviamo in quest'angolo qui che se proviamo a salire si trova di nuovo scombinato allora come posso fare di nuovo abbasso quest'angolo giro e porto su di nuovo scombinato però cosa vedo? vedo che quest'angolo qui l'ultimo rimanente è andato a posizionarsi bene quindi cosa posso fare per usufruire di quell'angolo che è andato a finire bene basta di nuovo abbassare di nuovo girare come sappiamo fare riportare su però nel momento in cui abbiamo fatto ciò quest'angolo qui è andato a finire qui pertanto basta semplicemente riportarlo indietro adesso abbiamo quattro angoli corretti come dicevo abbiamo quattro angoli corretti e ne mancano altri gli altri quattro quindi dobbiamo ricorrere con la mossa del dino ossia da un down up up allora innanzitutto come fare? ci possono essere due casi secondo dei quali è più facile dei quali è quello in cui si hanno due angoli rossi sulla stessa faccia mentre gli altri due si trovano in posizione opposta allora come si fa? basta semplicemente fare down down up up e in questo caso tutti gli angoli sono nel posto corretto però ci potrebbe essere quest'altro caso il caso è il seguente in cui abbiamo i due angoli posti in posizione diagonale quindi non abbiamo due angoli sulla stessa faccia allora cosa bisogna fare? bisogna trovare l'angolo che si trovi a destra della diagonale in questo caso è il seguente mentre l'altro vedi si trova a sinistra e quindi non va bene ci dobbiamo prendere quello in cui si trova a destra e dobbiamo ripetere la mossa per due volte quindi down down up up e da quanto si può vedere siamo riportati alla stessa fase di prima con due angoli corretti allora possiamo ripetere la mossa portando sempre gli angoli corretti ti ricordo sulla parte destra del cubo quindi facciamo down down up e in questo caso abbiamo risolto gli ultimi quattro angoli adesso ci tocca posizionare tutti i centri come si fa a posizionare i centri? allora c'è una mossa che è sempre la stessa sarebbe però facendo innanzitutto l'up quindi up up down down per tre volte la quale mossa mi sostituisce due centri che si trovano adiacenti e quelli in cui io vado a fare la mossa quindi se ci sono questi due adiacenti io dovrò fare up up down down per posizionarli quindi questi due verranno intercambiati l'arancia e il giallo e contemporaneamente gli altri due opposti laterali quindi il blu e il verde verranno intercambiati facendo adesso questa mossa lo skew per me sarà già risolto in quanto gli ultimi due centri sono già posizionati correttamente allora vediamo un po' l'efficienza di questa mossa allora proviamo a sostituire questi due e contemporaneamente a sostituire questi due facciamo up up down down up up down down up up down down ed il cubo è risolto potrebbero però verificarsi alcuni casi un po' strani tipo i seguenti allora in questo caso abbiamo solo un centro corretto mentre tutti gli altri sono tutti sfasati ottenendo questo come punto di riferimento ci dobbiamo risolvere l'opposto quindi il rosso come si fa a risolvere il rosso? semplicemente invertendo i due colori come abbiamo insegnato adesso e invertendo questi altri due che a me non interessa pertanto dovremo fare up up down down up up down down up up down down adesso che abbiamo due facce corrette dovremo risolvere gli altri due vedo che in questo caso dovrò invertirmi questi due però mi inverte questi due colori però non fa niente perché poi dopo dovrò invertirli successivamente con questi altri due quindi ritorneranno nella posizione originale allora come fare questo? basta fare up up down down up up down down up up down down allora in questo caso abbiamo unito i due colori esatti questi altri due si sono invertiti però adesso andiamo a fare la sostituzione con questi altri due centri e questi altri due ritorneranno in posizione originale completandomi il cubo quindi riproviamo up up down down up up down down up up down down ok e il cubo è risolto vi ringrazio ancora per l'ascolto vi chiedo gentilmente di iscrivervi al mio canale e se vi è piaciuto il video mettete un bel mi piace arrivederci